Ciao qui è Joe, seduzione attrazione e nel video di oggi rispondiamo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Come comportarsi con una ragazza per farle capire in maniera chiara che desidero solo un'avventura e nulla di più? Allora, per prima cosa, quello che voglio che tu ti chiarisca è che hai un concetto sbagliato in questo momento nella tua testa, cioè che lei necessariamente voglia una relazione. E non è esattamente così, nel senso che molte delle ragazze con cui faccio sesso spesso non vogliono una relazione. E questo in parte è sicuramente dovuto al fatto che tendo a trarre un certo tipo di ragazza maggiormente perché tu attrai ciò che sei fondamentalmente, questo è un principio psicologico e il fatto che io non voglia una relazione per primo mi rende ovviamente più facile attrarre ragazze di questo tipo. Ma in realtà ti garantisco che sono un vasto numero le ragazze che non vogliono una relazione. Quindi non pensare necessariamente che le ragazze vogliano una relazione da te, perché non è necessariamente così. Prima. In secondo luogo, non ti sto dicendo di mentire la ragazza, ma tieni anche molto ben presente che le ragazze sono molto più brave di noi uomini a capire quello che un uomo in realtà vuole, perché sono passate attraverso quella che è la loro esperienza di un sacco di uomini che semplicemente, molto probabilmente, hanno preso per il culo perché vogliono farci solo sesso, perché sono più brave a leggere quelli che sono i segnali non verbali e quindi fondamentalmente il fatto che tu lo dica non è sempre necessario, perché loro capiscono quello che vuoi, da come ti comporti, da come agisci, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stesso modo ti voglio far notare questo. Se tu vuoi solo fare sesso e non vuoi mentire alla ragazza, c'è in qualche modo un problema di valori, nel senso che, come ti direbbe Robbins, dovresti capire qual è il valore per te più importante. Fare sesso o seguire quelli che sono i tuoi principi morali. Perché ovviamente se il valore principale è fare sesso, la cosa migliore che quanto meno tu puoi fare è quella di rimanere sul vago, ok? Ma se diversamente, in realtà, per te i tuoi valori sono più importanti di un'avventura, di un sesso occasionale, eccetera, eccetera, a quel punto dovrai fare delle scelte diverse. Quindi, la pura verità è che se tu applichi tutte quelle che sono le tecniche di istituzione in maniera serrata da lover, come io spiego nel mio corso Insider Mind, e questa è una delle varie opzioni che tu puoi avere, e che ti permette di filtrare ragazze che non sono interessate a del sesso occasionale, semplicemente, loro lo capiscono, lo capiscono perché la tua comunicazione, anche se non dici esplicitamente guarda che io voglio solo far sesso con te, ma il tuo modo di interagire con loro è talmente chiaro che non lascia spazio a dubbi, francamente. E allo stesso tempo, se lei invece è un tipo di ragazza che vuole solo una reazione, a quel punto, se tu non la vuoi, stai solo perdendo del tempo, soprattutto se tu hai questo valore che ti dice io voglio essere assolutamente onesto con la ragazza. Quindi, alla fine della giornata, se vuoi toccare l'argomento, sappi che perderai necessariamente delle ragazze che potrebbero essere state interessate. Per quale motivo? Perché le donne non vogliono sentirsi dire qualcosa del tipo guarda io voglio solo far sesso con te, anche se loro fossero le prime a essere interessate a una cosa di questo tipo, semplicemente per loro non è un atteggiamento attraente, non è un atteggiamento accattivante, non le fa sentire desiderate, le fa sentire facili, non funziona, semplicemente. Ma, in ogni caso, il punto è questo. Tu puoi semplicemente, mettiamola così, essere vago, se proprio non vuoi essere assolutamente diretto su quello che vuoi dire alla ragazza. Puoi dire qualcosa del tipo che sei in una fase particolare della tua vita dove sei solo esclusivamente concentrato su quello che è il tuo lavoro, ti senti un po' come un Peter Pan, senti come se non riuscissi mai a crescere e così via. Insomma, buttare qua e là delle frasi che fondamentalmente fanno capire o non capire che sei in una situazione in cui una relazione è proprio esattamente la cosa ideale per te. Detto questo, più tu sei onesto su questa cosa, maggiori sono le ragazze che perderai, proprio perché ci sarà una discrepanza di valori fra te e le ragazze. E soprattutto perderai anche ragazze se sei brutalmente onesto che magari erano loro stesse interessate a fare semplicemente stesso con te. Quindi la pura verità è che non c'è una risposta alla tua domanda, perché la risposta alla tua domanda dipende da cosa tu vuoi fare in merito a quelli che sono i tuoi valori e i tuoi obiettivi. Ok, prima di andare ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi diventare un maestro della conversazione ho creato una serie di video gratuiti proprio su questo argomento. In questi video vedrai vari filmati di approcci di ragazze dove uso le tecniche di conversazione e poi te le spiego passo passo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.